Buona giornata, sono felice di poter partecipare anche attraverso un video alla conferenza del Global Camp che si terrà in mese di marzo. Sarò felice di mandare questo messaggio e di ringraziare per la squisitezza, la competenza e anche la grande sapienza che ha il pastore Ox Pa, che ho avuto modo di incontrarlo in una videoconferenza il mese scorso. Un elemento per noi cristiani è il ricordo della lettera dei primi di Corinzi dove il versetto 15 ci ricorda che credere in quel nostro meraviglioso Cristo che per noi è la salvezza, che per noi è il futuro e per noi è l'eternità. Io credo che questo incontro, questo Global Camp dove ci sono molti giovani, saranno e sono necessarie le esperienze del e dei pastori della qualità di Ox Pa che può essere guida non soltanto spirituale ma anche guida per la quotidianità. Io auguro in queste giornate che si svolgeranno del Global Camp che i ragazzi possano apprendere il più possibile e coloro i quali non sono ragazzi possano sentire e ascoltare la sapienza di coloro i quali hanno la sapienza. E' uno dei personaggi che ha sapienza e il pastore Ox Pa. Un abbraccio fraterno e nel nome di Dio noi chiediamo amore e speranza che è il messaggio più grande che possiamo mandare all'umanità. L'umanità ha necessità di speranza, l'umanità ha necessità di Cristo e della salvezza in Cristo per trovare il Dio Padre che è l'unica certezza che il mondo e che l'umanità ha e dovrebbe avere. Grazie, un abbraccio e buon lavoro.